La prima donna giunta all'arrivo di questa prima edizione della Grossetto Castiglione, tanta fatica ma anche tanta felicità. Sì, non mi rendo ancora conto nei fatti di quello che sono riuscita a fare, ma sono veramente grata di questa giornata e di questa gara perché questo posto per me è particolarmente speciale. Sono venuta a Castiglione della Pescaia con tutta la mia infanzia e con la mia famiglia e ho legato a questo faro gran parte dei più bei ricordi che ho. Quindi ci credevo, volevo vincere e sono venuta motivata, ce l'ho fatta e è un sogno che diventa realtà. Hai anche battuto tanti uomini, quindi insomma soddisfazione doppia. Sì, anche perché non era una gara così semplice come pensavo. Era nei fatti tutta pianeggiante, però c'erano salettine, discesine, falsi piani che altro che hanno messo veramente ad una prova il ritmo. Però ho cercato di resistere, sono più andata avanti con il cuore che con le gambe e oggi sono molto contenta. Grazie.